Un'offerta per l'acquisto dell'Istituto Margherita, storico immobile del centro storico di Lecce, è giunta in queste ore a Palazzo Carafa. A dare la notizia è stato il sindaco Carlo Salvemini con un post pubblicato su Facebook, lo stesso che poco più di un anno fa aveva candidamente ammesso in commissione che l'Istituto Margherita non può rientrare nel PNRR, siamo costretti a metterlo in vendita. Adesso per fortuna arriva la svolta tanto o spiccata. L'Istituto Margherita è inserito nel piano delle alineazioni del Comune di Lecce dal 2010. In tutti questi anni non è mai arrivata nessuna offerta d'acquisto, fino ad oggi. Due società si sono aggiudicate per ora in maniera provvisoria in attesa di tutte le verifiche di legge, tutti e tre i lotti messi in vendita che comprendono l'immobile in via Palmieri con destinazione d'uso ricettiva e gli immobili in via Conservatorio San Leonardo in Vico degli Alami con destinazione d'uso residenziale. L'importanza di questa operazione non è soltanto finanziaria, col comune che otterrà dalla vendita poco più di 5 milioni di euro, ma soprattutto urbanistica, fa sapere il sindaco Salvemini. Nel centro storico un altro immobile dismesso da anni, utilizzato fino al 2009 al piano terra come sedi di uffici comunali, sarà recuperato, abitato e vissuto. Dopo l'ex caserma Cimarussi, che diventerà la prima residenza universitaria all'interno della città vecchia, grazie a un progetto della Regione Puglia e della Disu, finanziato col PNRR, anche il Margherita si avvia dunque una seconda vita nell'ottica della rigenerazione e della valorizzazione dell'esistente. Lo storico edificio venne realizzato nel lontano 1796 come orfanotrofio fino al 1887, anno in cui venne rinominato Istituto Margherita di Savoia in onore della moglie del contemporaneo re d'Italia Umberto I di Savoia. Comprende piano terra, due piani superiori e alcune aree del seminterrato. Anni di incuria e di abbandono hanno gradualmente fatto sprofondare nel degrado uno degli immobili storici di questa città a cui sono legati molti leccesi, soprattutto quanti hanno frequentato per alcuni decenni la scuola materna elementare media magistrale. Ecco perché ora serve un deciso e robusto intervento di restining dell'immobile. Servono soprattutto soldi, tanti soldi, un'operazione comunque che resta virtuosa per ridare luce a questo storico edificio.